Marchisio è la frase che ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Ma prima di vedere cosa ha detto questo signore iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per ricevere le principali notizie dal club con i tifosi più appassionati del mondo. Le parole dell'ex centrocampista della Juventus che fa riferimento all'arbitraggio di Cosso durante la sfida col Monza. La partita dell'U-Power Stadium verrà ricordata, dal Napoli, anche per l'arbitraggio del signor Cosso che, come, sottolineato dalla moviola del Corriere dello Sport Stadio, non ha assegnato un rigore alla squadra di Spalletti nel secondo tempo per fallo di Pessina su Osiman. Il direttore di gara, in quella circostanza, ha fischiato fallo in attacco. Un episodio che continua a far discutere nei salotti televisivi. Cosa ha detto Marchisio? Le sue parole? Ne ha parlato, ad esempio, l'ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio. Intervenuto alla Rai, Marchisio ha proposto un paragone che ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Per me il rigore c'era. Osiman è bravo ad anticipare Pessina e a difendere palla. È la stessa situazione di Miliklobotka in Juventus-Napoli. Tutti ricordano il contatto che portò poi alla rete annullata di Maria. Tifoso napoletano che ne pensi? Commenta qui sotto e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale, così ti aggiornerò quotidianamente con le novità. Forza Napoli, sempre e tutto per lei!